eccoci tornati qui a new mano adams come sempre ragazzi sono rientrato oggi da cuba ebbene si sono rientrato oggi mattina cioè oggi mattina oggi al luna alle 12 una da cuba ho passato tutta la notte quindi adesso sono esau sto sono quasi le 10 di sera però comunque ce la faccio a fare questo video come avrete già letto dal titolo oggi recensiremo il mio nuovo telefono ma vi dico perché nuovo non perché sennò dopo nei commenti scrivete scrivete bambino viziato così bambino viziato perché hai un casino di telefoni allora io avevo un samsung galaxy young però ieri a cuba quando come mia cugina forse viene qua in italia così e deve comunicare con noi non avevo un telefono gli ho regalato il mio di mia volontà quindi non dite che poi sono un bambino viziato e mi sono comprato questo telefono poi perché dice che io ho la camera rosa non è vero io non ho la camera rosa ho la camera blu era solo con il riflesso della luce che si vedeva rosa però ve lo assicuro è azzurro è azzurro e quindi non dite che ho la camera rosa e iniziamo subito con recensire questo nuovo telefono il nuovo telefono si chiama motorola moto g si questo qua è un motorola moto g e lo recensiremo subito in questi giorni caricherò anche l'unboxing che l'ho già fatta e e monterò il video subito questo video lo monterò subito e forse questo video lo metterò già stasera non lo so se no domani cioè quando state vedendo il video oggi oppure avete capito e ho fatto anche un paio di candy da cuba che ve le metterò dopo perché devo ancora trasferire tutti i dati dalla videocamera al computer dopo no perché in realtà lo devo trasferire in un altro computer dopo in questo fare tutto il montaggio rivederlo e mettere prima al prossimamente e poi farò il video vabbè a parte tutti questi dettagli inutili iniziamo subito con recensire l'unboxing con recensire questo telefono allora adesso aspettate che accendo la luce e ci vediamo dopo ciao eccoci eccoci ragazzi scusate ok abbiamo acceso la luce e direi di iniziare con questo semplice in questa semplice recensione ok questo qua è il riconoscimento facciale però adesso noi non ci interessa e metteremo il codice ok questa qui è la pagina home diciamo di questo nostro motorola il motorola allora la la durata della batteria dura di più di quella dell'iphone e molto cioè sì sì un pochino di più e ok mi hanno anche mi hanno dato una richiesta di amicizia su facebook sarà un mio fan vabbè e e e quindi come vi dicevo la durata della batteria questa qui è maggiore alla alla durata alla durata dell'iphone perché mi hanno detto che se uno lo accende alle 7 di mattina con carica al 100% e lo utilizza per un bel po con wifi con navigazione 3g e tutto e ha verso piena notte inoltrata gli rimane comunque un pochino alla gente di batteria quindi direi che che è un un bel telefono per la durata della batteria ok rifacciamo tutto e le chiamate io non ho ancora provato le chiamate e proviamo a chiamare vediamo questo qua è la chiamata e poi cosa ci sono ovviamente le 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 applicazioni preimpostate che che tipo play store e impostazioni e varie cose e poi ovviamente dal play store ti puoi scaricare i giochi poi altre varie cose che ha per esempio la fotocamera che direi che è meglio di iphone per quanto esperienza personale e direi che è meglio di iphone nel tutto è meglio di iphone per esempio facciamo una foto adesso ok e adesso andremo a vedere come è risultata la foto bene allora la foto è risultata così qui per esempio cerchiamo altre foto per esempio questa qui è un pochino più alta la foto è la risoluzione di quella di iphone e per esperienza personale che io li ho potuti provare tutte e due perché ho i due telefoni sia iphone sia motorola moto g e tipo questo qua è da 16 gigabyte che il prezzo di questo qua di 16 gigabyte è di 215 euro e invece quello con memoria ad 8 gigabyte che non è espandibile e neanche questo da 16 gigabyte è espandibile e costa 100 è comunque un 70 60 euro in meno direi che è molto fluido nella comunque nello scorrimento delle pagine e mi trovo molto bene con questo motorola poi una cosa che non potevi fare con il samsung galaxy young è aggiornare gli aggiornamenti software gli aggiornamenti software perché non li potevi aggiornare? questo non lo so e qui li puoi aggiornare infatti da media world quando lo sono andato a comprare era la versione 4.0 c'era scritto sul volantino si sul volantino e poi invece quando invece quando il preimpostato era 4.2 e io l'ho aggiornato fino a 4.4 kitkat come vi dicevo è molto fluido e qui abbiamo il jack delle cuffie qui la telecamera che ce l'ha anche per fare i selfie il flash e il simbolo motorola una cosa molto carina che a me piace e interessa perché l'unico colore che ce l'avevano è nero e quindi a me interessa per quello perché a me piace il nero però non tantissimo è che questa cover adesso no non posso perché se no lo graffio perché c'è questo però per esempio adesso che l'ho staccato per esempio se io stacco la cover si rimuove anche molto facilmente senza forze estreme e non si guasta neanche qui questo qua è all'interno la batteria non è rimovibile la batteria non è rimovibile e però questo qua quando compri le cover questo qua si può cambiare con un'altra di un altro colore che la metti al posto di questa che è fatta apposta anche con tutte queste cosette dentro che fa anche da da progettore qua sullo schermo quello magnetico tipo iPhone e sia qua è una cover proprio che si vede colorata io adesso me la voglio prendere arancione e queste cover non sono incluse nella custodia perché nella custodia è solo inclusa il caricabatterie che è questo qua che senza presa a muro solo via USB si carica il telefono e io non ho provato ma credo che se è l'USB e se voi avete un iPhone potete prendere il caricatore dell'iPhone attaccarlo con la USB e attaccarlo alla presa da muro però non ne sono sicuro quindi non lo do per certo però non lo do neanche per scontato quindi come vi dicevo qua si copre e costa 19,99 euro c'è da Media World e negli altri negozi ovviamente tipo Fnac, Troni e tutti gli altri adesso richiudiamo l'apposita custodia e rimane così poi qui cosa abbiamo? la telecamera per fare i selfie e questo qua credo sia o il microfono o comunque l'audio qui in basso abbiamo il caricatore che si collega così e farà questo rumorino che avete appena sentito quando si è quando è in carica il Motorola e qui il tasto di accensione a destra il tasto di accensione che è questo qua più in alto e questo qua più grande più largo è per alzare e abbassare il volume qui è l'audio però l'audio non l'assorbe se lo metti così non l'assorbe l'audio perché è fatto un po' curvo che comunque l'audio esce bene e si sente come se fosse qua qua dove volete dalla parte frontale del telefono quindi come dicevo è un bel telefono per ritornare alla pagina home per ritornare alla pagina home voi non avrete come nell'iPhone il pulsantino qua qua sarà vuoto e avrete i pulsantini digitali qua per ritornare indietro dove eravate prima e qua per le pagine beh la recensione finisce qua se non siete iscritti al canale ovviamente iscrivetevi commentate commenti brutti e critiche costruttive e ci vediamo al prossimo video ciao